No, sarò velocissimo Riescono di non farti la differenza come invece dovrebbero farla giocando nel Milan Però è evidente Perdonami, io faccio il conduttore e non posso entrare nel merito Però mi metto nei panni del tifoso Come fai? Con tutto il rispetto Grazie Presidente per esistere, per quello che lei ha regalato e mi ha regalato in questi anni Sì, quindi vuoi continuare a scriverci di Milan a diretta stadio chioccia la7gold.tv a fra poco Formazioni per quanto riguarda La seconda partita invece, quella tra Cagliari e Catania Partita un po' più equilibrata Scevra, che si battano i calci di rigore Volevo dirvi per la cronaca che ci sono circa 7-8 mila tifosi Ecco, siamo arrivati a... Che sei una bravissima conduttrice E va bene, allora io vi ringrazio in 30 secondi per salutare tutti voi Che ci avete fatto compagnia, abbiamo veramente... siamo stati molto bene volata questa serata Saluti i telespettatori, gli auguro una buonanotte All'appuntamento a domani col Tg Sportivo alle 13.35 circa E per quanto riguarda diretta stadio, mercoledì sera alle 20.30 Rosangela Precisissima, grazie a te Tiziana È stato un piacere e un onore stare in tua compagnia e in vostra compagnia Grazie Rosangela, grazie a Viva Caccia Ciao